E' il prossimo episodio della serie italiana con il prossimo episodio e vogliamo ottenere un trofeo legendario. Gli uomini leggono il giornale. Gli uomini leggono il giornale. Gli uomini leggono il giornale. Dioca. Ragazza. Donna. Chlapec. Ragazzo. Uomo. Chlapci piju i ragazzi bevono. Io mangio la mela. Gli uomini. Gli uomini. Gli uomini. Gli uomini. T. Acqua. Te. Nello. Zucchero. Noi leggiamo un libro. Mi. Noi. Citame. Leggiamo. Un. Libro. Noi leggiamo un libro. Mi cita Mcnew. Tu sei. Lei è. Tu sei. Lei è. Ti si. Lei. Lei è. Una. I e. Tu sei. Lei è. Cioè tutto. fotografia knia nomini il giornale lei mangia il pane noi scriviamo voi scrivete di pisciti la donna legge al ragazzo la donna cita legge la donna legge al ragazzo ragazzo la donna legge al ragazzo ragazzo la donna legge al ragazzo voi bevete acqua vi pijete vodere il bevo il giornale il giornale la donna legge al ragazzo la donna legge al ragazzo la donna legge al ragazzo la donna legge al ragazzo